Salve amici del Centro Medio Italiano. Mal tempo ormai imminente su gran parte della penisola, con possibilità di nubi fraggi e intense grandinate. Tra oggi e domani sulle regioni settentrionali assisteremo ad una vera e propria rottura stagionale, con temporali diffusi fin verso le aree costiere e pianeggianti. Da domani il mal tempo tenderà a estendersi anche sul resto della penisola. Come vedete questa saccatura alle mie spalle tenderà ad avvicinarsi verso le regioni centro-meridionali con dei temporali molto intensi che risaliranno dal nord Africa e si sposteranno verso il meridione. Si tratterà di fenomeni particolarmente intensi, quindi prestare attenzione. Calo termico in arrivo di oltre 10 gradi rispetto agli attuali valori, quindi su alcuni settori sentiremo più un sapore autunnale rispetto a quello estivo che stiamo vivendo in questi giorni. Come inizierà invece il mese di settembre? Quindi anche l'inizio della prossima settimana. Vedete l'anticiclone tenderà a rimanere piuttosto schiacciato sia sulla penisola iberica che sul nord Africa, mentre le correnti atlantiche tenderanno a invadere ancora buona parte del comparto europeo. Quindi ancora qualche pioggia soprattutto tra lunedì e giovedì e poi invece nel prossimo fine settimana la tendenza sembrerebbe essere orientata verso un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Comunque vi ricordiamo che per tutti i dettagli potete consultare sia il nostro sito che il canale YouTube che vedete alle mie spalle. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.